Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon Dì, vi ho fatto caso. La linfe che è partito dell'idrista al rosar e nodri gli erosi, nodri gli fuei e nodri anche gli spini. Così, la nostra interiorità è poi floccata in complimenti per auli di consolazione che danno coraggio, e sono le rosi che durano qualche giorno. Oppure, sempre la nostra interiorità può saltare come impegno per gli altri, proposti buoni tra i loro riguardo aiutano. Ecco, sono le fuei che non succedono a crescere e che succedono anche gli altri, a durare nel stadio. Però, di nuovo, può saltare fuori anche le malgracce, le brutte parole, i dispiessi, e sono le spini, che durano gli altri altri, tanto durano noi. Buona giornata e buona vita! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!